Vigile risponde bene alle cure. Silvio Berlusconi prosegue la sua adegenza nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia soffre di una polmonite conseguenza di una leucemia cronica come rivelato dal suo medico personale il professor Alberto Zangrillo, direttore dell'unità di anestesia e rianimazione. Leucemia diagnosticata tempo fa e della quale pochi fidati confidenti conoscevano l'esistenza anche perché finora rimasta a uno stato cronico e non evoluto in fase acuta. Malgrado questo le difese immunitarie del Cavaliere sono state indebolite, da qui l'urgenza del ricovero per curare la polmonite. Accanto a lui la compagna Marta Fascina che ha passato la notte in ospedale. In giornata sono passati i figli e il fratello Paolo mentre al telefono lo ha raggiunto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Nel pomeriggio le visite dei fidati collaboratori Marcello Dell'Utri e fedele Confalonieri. Messaggi di vicinanza e incoraggiamento sono arrivati da tutto il mondo politico mentre a Roma continua il confronto sul PNRR. Oggi la Commissione Bilancio ha dato il suo ok al decreto legge sulla governance del provvedimento che attende per dopo Pasqua l'ok definitivo dell'Assemblea. Tra le misure apportate ci sono interventi per la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione e la stabilizzazione del personale assunto negli enti territoriali come regioni e comuni nell'ambito di progetti europei. Non mancano poi nel testo misure rivolte alle energie rinnovabili e alla lotta per il dissesto idrogeologico. Mentre sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio alle 17.30 arriva il decreto legge per l'emergenza siccità. Il governo ha deciso di istituire una cabina di regia con la nomina di un commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica.